e ahimè 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 questa quarta ultima puntata si conclude la nostra del 150 puntata la concludiamo così con un saluto a tutti coloro che sono qui in studio grazie Giuseppe grazie per la tua presenza ci siamo ancati saremo qui fra un mese ci presenteremo meno male la speranza è l'ultima a morire ma prima dobbiamo fare dei saluti prima però un'altra cosa importante salutiamo il nostro carissimo Giovanni Gurrieri un abbraccio da tutti noi e speriamo di vederlo qui in studio molto presto grazie domani lo speciale a Giuseppe Ferreri vero Paola? si domani lo speciale mi raccomando numerosi con Paolo Formaro un'altra cosa ci abbiamo il tempo saluti velocissimi grazie a Loredana, Lucia, Salvatore, Fabio e Giovanna ciao 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 ciao